Amici di Happy Hour, buonasera e ben ritrovati. Anche questa sera parleremo della salute dei nostri denti e lo facciamo con il nostro ospite qui studio. Ritroviamo il dottor Federico Che, diciamo, bisogno di presentarti perché oramai sei diventato il punto di riferimento per i nostri telespettatori. Oramai ti conoscono tutti benissimo. Ecco, tu sei partito, potremmo dire, come tutti, da un picco, insomma, ti sei allargato tantissimo. Sì, è stato l'autostrada, nonostante il traffico d'attrezzo. Anche perché, Federico, tu sei presente in tutti questi centri. Sì, questo, tutto rispetto per le catene, per carità, però, diciamo, in noi, c'è del gioco, ci mancherebbe. Certo, e non ti fermerai? Ma, l'anno prossimo ho questo... ...pillare in Lombardia, quindi vicino Milano, vicino alla Svizzera, Malnate, e potremmo dire, ovviamente, non sette giorni su sette in ognuno perché sarebbe impossibile. Più volte anche del turismo dentale, tu non sei molto d'accordo su questo? Ma io ho sempre sostenuto che il passiamo Toronto Bridge, che si può fare su quattro o sei impianti e, a volte, col cosiddetto caro, lo vedrete, sarà così. Federico, ma a te è successo di curare, magari, queste persone che sono andate prima all'estero e poi sono venute? Federico, bisogna assolutamente affidarsi alle strutture competenti. Ma, ripeto, grazie a voi. Per essere stato qui con noi. Ringrazio e vi auguriamo una piacevole serata. Grazie a tutti.